Quintino Pallante, editore di Tene Molise, anche da parte tua un augurio sincero, sentito a tutti i nostri telespettatori in questo giorno, che è il giorno del 25 dicembre, ovvero la festa di Natale. Un augurio a tutti i nostri telespettatori che quotidianamente ci seguono, sia per l'informazione, per lo sport e tutti i programmi che quotidianamente produciamo, grazie per questo affetto che ci dimostrate nel seguirci quotidianamente e auguro a tutti un buon Natale, un felice anno nuovo, buone feste a tutti quanti. Una piccola cosa, se posso, è stato un dicembre impegnativo per la redazione sportiva, ma chiaramente anche per Tene Molise, sia con Tene Molise nel cuore, sia con il calendario che è stato presentato pochi giorni fa, due appuntamenti importanti per testimoniare ancora una volta la vicinanza della nostra emittente rispetto al territorio. Con Tene Molise nel cuore, tanti ospiti nel segno del Molise, con il calendario per un omaggio gratuito a tutti coloro che ci seguono e ci vogliono bene. Sì, il 7 dicembre c'è stata questa bellissima trasmissione, Tene Molise nel cuore, che oramai ogni anno stiamo riproponendo, sempre con delle bellissime novità, soprattutto dando preferenza agli artisti molisani e premiando l'eccellenza del Molise. Una bellissima trasmissione davvero, spero che sia diventata a questo punto una tradizione della nostra emittente.